Oltre 35 milioni di euro a tanto ammonterebbe, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, diretta dal procuratore capo Maurizio De Lucia, il patrimonio di Vincenzo Pergolizzi, soggetto contiguo alla criminalità organizzata operante a Barcellona, Messina e Catania, ai tempi dell'attività sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Milazzo. Pergolizzi, coinvolto adesso nell'operazione Terzo Livello, attraverso la complicità di familiari e persone di fiducia, avrebbe posto in essere condotte al fine di sottrarre a possibili procedure di prevenzione nei suoi confronti rilevante patrimonio immobiliare delle società e lui riferibili e al coltempo frustrare il recupero coattivo del credito erariale da cui le stesse sono gravate, quasi un milione di euro accertato dovuto all'erario. Con tali intenti, oltre a numerose trasformazioni societarie per mezzo dei propri familiari, l'uomo avrebbe inscenato fittizie controversie lavorative con i dipendenti di fiducia al fine di svuotare in maniera fraudolenta le proprie società di beni e capitali. Per lui scatta la custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti di Emilia Barrile, Marco Ardizzone, Francesco Clemente, Stefania Sonia Pergolizzi, Carmelo Cordaro, Michele Adige, Vincenza Merlino, Carmelo Pulì e Giovanni Luciano è scattata la misura degli arresti domiciliari. Sospensione dal pubblico ufficio in atto ricoperto per la durata di sei mesi invece nei confronti di Daniele De Almagro. Diveto temporaneo per la durata di sei mesi di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire ufficio apicali in seno ad imprese e persone giuridiche nei confronti dell'imprenditore Antonio Fiorino. Tutti, insieme ad altri soggetti, sette in tutto indagati a pieno di libero, sono stati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione in debita, dare o promettere utilità in concorso, corruzione, detenzione illegale di armi, accesso abusivo ad un sistema informatico telematico, turbata libertà degli incanti, associazione per delinquere, intestazione fittizia di bene e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.